Erano determinati a prendere a qualsiasi costo il contenuto del Bancomat, un bottino di 90.000 euro custoditi all'interno dello sportello di Anton Veneta nel centro commerciale Tiziano. E ci hanno provato davvero in ogni modo, persino ingaggiando un conflitto a fuoco con i carabinieri. Entrano in azione poco prima delle tre di notte i banditi, probabilmente un terzetto, con la polvere pirica fanno saltare lo sportello. I carabinieri in un lampo arrivano, intimano ai criminali di fermarsi, ma questi non hanno la minima intenzione di arrendersi. I banditi hanno dimostrato che pur di assicurarsi l'impunità, erano disposti anche a fare azione di fuoco nei confronti dei militari. Inizia l'escalation di tensione. Uno dei tre ladri estrae un'arma, probabilmente un revolver. La punta contro i militari e fa fuoco due volte. I carabinieri rispondono esplodendo in tutto sette colpi con le pistole di ordinanza, ma i tre sono troppo veloci. Approfittano del caos per darsi alla fuga sul retro dell'edificio, verso i campi. Una fortuna che nessun carabiniere sia rimasto ferito. Quel che è certo, vista la meticolosità con cui avevano studiato il piano, interrotto dall'arrivo della gazzella, è che si trattasse di esperti. Sicuramente erano dei professionisti, avevano studiato bene la scena del crimine, avevano idea di come organizzare il colpo e avevano preso tutte le contromisure necessarie. Ora, spazio alle indagini. I banditi avevano il volto travisato con un passamontagna. La loro azione è stata comunque immortalata dalle telecamere di videosorveglianza. Il loro modus operandi lascia supporre che fossero soggetti molto ben informati sul luogo dove avrebbero colpito. Siamo comunque dell'idea che non sia una banda di stranieri, ma gente comunque locale qui della zona nostra.